Oggi continuiamo a trattare delle popolazioni italiche, provando a rispondere alla richiesta di Alessandro, di Saverio e di Pierpaolo, ma anche di molti altri di voi, che a più riprese mi hanno chiesto di trattare dei Sanniti, che sono probabilmente la popolazione sabellica più famosa in assoluto. Per chi volesse rinfrescarsi le idee relativamente alla storia degli osco Umbri o Italici in generale, rimando come sempre alla parte introduttiva del video sugli Umbri, ma prima di cominciare a trattare dei Sanniti vorrei specificare un paio di cose. La storia dei Sanniti è molto articolata, ne parlano diversi autori, soprattutto per quanto riguarda lo svolgersi di tutte le guerre Sannitiche che partono dalla seconda metà del IV secolo a.C. e durano fino alla prima decada grossomodo del III secolo a.C., e sia per quanto riguarda la guerra sociale, durante la quale i Sanniti hanno comunque un ruolo importante e preponderante, per non parlare poi della guerra civile tra Mario e Silla, dove nuovamente i Sanniti, appoggiando la parte mariana, hanno un loro ruolo specifico. Ora non è mia intenzione trattare di tutta la storia dei Sanniti in dettaglio, anche perché altrimenti ne verrebbe fuori un filmato di almeno due ore e mezza, tre, che sarebbe insostenibile per me e intollerabile per voi. Per chi volesse però appunto approfondire tutta la storia dei Sanniti nei minimi dettagli vorrei consigliare due testi. Uno è questo, Il Sannio e i Sanniti di Salmon, che è un testo ottimo secondo me, un po' datato relativamente a certe specifiche, ma lo vedrete poi voi leggendolo, però comunque diciamo che è una pietra miliare, non si può trattare del Sannio e dei Sanniti senza aver letto Salmon. Oltre a questo poi consiglio anche un altro testo che è I Sanniti del professor Gianluca Tagliamonte, che è un archeologo italiano, un'eccellenza che possiamo vantare, e che anche un esperto di storia militare. Dunque dopo questo incipit che era doveroso, perché in questo video esplorerò diversi aspetti, alcuni particolari secondo me interessanti, ma non certo tutta la storia dei Sanniti e tutte le vicissitudini delle varie guerre che li hanno contrapposti ai Romani, bene, possiamo cominciare. Sull'origine dei Sanniti vi sono diverse tradizioni. Strabone, accanto a una che li vorrebbe discendenti di antichi coloni spartani, alla quale però lui stesso mostra di dare poco credito, ne riporta un'altra, secondo la quale i Sanniti sarebbero il frutto di una migrazione dei Sabini. Si ritorna qui a descrivere l'istituto migratorio del Ver Sacrum, o Primavera Sacra, che abbiamo già trattato più volte in precedenza. A seguito di un evento particolarmente fausto, la vittoria di una lunga guerra contro gli Umbri, in concomitanza però con un evento in fausto, una carestia, i Sabini decidono di consacrare al dio della guerra quello che i greci chiamavano Ares, i latini Marte, e le popolazioni osco-umbre invece Mamerte, un'intera classe di giovani, che una volta raggiunta la maggiore età vengono allontanati dalla comunità. Secondo il mito che gravita intorno all'istituzione del Ver Sacrum, i giovani che venivano allontanati secondo questa modalità finivano per essere diretti, condotti nella loro migrazione, da un animale totemico. E se in un'altra migrazione dei Sabini, quella che avrebbe portato alla nascita dei Piceni, l'animale totemico era stato il Picchio, in questo caso invece a condurre i giovani migranti è un toro, che secondo Strabone li conduce fino alla terra degli Opici. Qui i giovani si sarebbero scagliati contro gli Opici, avrebbero conquistato i loro villaggi, e avrebbero posto così le basi per una nuova comunità, dandosi secondo Strabone il nome di Sabelli, che secondo lui è un diminutivo di Sabini e che viene utilizzato appunto per ricordare l'origine di questo nuovo popolo. Un altro nome con il quale questa nuova comunità viene conosciuta però secondo Strabone è quello di Saunitai, che secondo un altro autore, Festo, trae origine dal Saunion, un caratteristico giavellotto, del quale però non viene specificata la struttura, che sarebbe stato la loro arma caratteristica. Secondo Ecateo di Mileto e Antioco di Siracusa gli Opici citati da Strabone sarebbero da riconoscere nel popolo degli Ausoni. D'altro canto Strabone mostra far differenza tra queste due popolazioni, anche se sottolinea che vivono a stretto contatto nell'area del Golfo di Napoli. D'altro canto ancora Ausoni sembra per Cassio Dione e per Servio semplicemente un sinonimo per un altro popolo, quello degli Aurunci. Probabilmente di fatto siamo di fronte a tutta una serie di diverse popolazioni, imparentate tra loro in maniera più o meno serrata, ma tutte appartenenti al ceppo linguistico latino falisco, che abitavano nell'Italia centro-meridionale prima dell'arrivo degli Osco Umbri, e sulle quali gli Osco Umbri si sovrappongono, imponendo la propria cultura, la propria lingua, ma in alcuni casi facendo proprio il loro nome. Ad esempio il termine Opici sembra sopravvivere nella forma sabellica Osci, che viene utilizzata sia per indicare i Sanniti, sia più spesso per indicare in generale tutte le popolazioni sabelliche dell'Italia meridionale, come ad esempio i Bruzzi o i Lucani, mentre Aurunci e Ausoni sono termini che vengono utilizzati per indicare due realtà del IV secolo a.C. strettamente imparentate tra loro e fortemente connotate da un elemento sabellico che sono stanziate lungo il confine tra il Lazio e la Campania. Esattamente quindi come nel caso degli Umbri, che abbiamo già visto, che vede una popolazione sabellica sovrapporsi a un elemento preesistente, imporre la propria lingua, ma acquisirne il nome, le popolazioni sabelliche che a intervalli regolari, a ondate successive, si spingono nell'Italia meridionale, si sovrappongono ai popoli preesistenti, impongono cultura e lingua, ma in alcuni casi prendono il nome degli indigeni e lo fanno proprio. Il mito del Versacrum, la primavera sacra, la migrazione che avrebbe portato alla nascita del popolo dei Sanniti, è un elemento come molti altri analoghi che gravitano intorno al folclore relativo agli Osco Umbri, che probabilmente al suo interno porta più di un granello di realtà storica. La parentela tra i Sanniti e i Sabini sarebbe confermata sia dal nome di Sabelli sia dal termine Safinim, riportato su un'epigrafe osca ritrovata a pietra abbondante, che indicava il territorio del Sannio. Entrambi i termini conservano al loro interno la particella sabellica Sab-Saf, che sovrintendeva il concetto di consanguineità, di appartenenza al medesimo gruppo etnico, particella che si ritrova anche nel nome dei Sabini. Il nome Sanniti evidentemente è legato all'osco Safinim, mentre tutta la paraitimologia riportata da Festo, che lo vorrebbe una conseguenza dell'uso di questo misterioso giavellotto, il Saunion, è chiaramente un'invenzione, anche seppure in questo caso il punto di partenza probabilmente è in una certa misura reale, e si ritrova nella tanto decantata abilità delle popolazioni sabelliche nell'uso appunto dei giavellotti, delle armi da getto, che è riportata da diversi autori classici, tra i quali ad esempio Silio Italico. Il fatto che la migrazione venga fatta coincidere con la conclusione di un conflitto tra Sabini e Umbri, dei quali poi oltretutto, secondo altri autori, i Sabini erano a loro volta una gemmazione in origine, si incastra perfettamente con tutto il sistema dell'etnogenesi delle popolazioni sabelliche, che veniva portato avanti probabilmente da piccole bande guerriere, la realtà storica dietro ai gruppi di giovani delle primavere sacre, che si distaccavano dalla comunità di origine creando delle scissioni che potevano essere portate avanti in maniera più o meno pacifica. Ricordiamo d'altra parte come Catone scriva che il verbo natinari, litigare, essere litigiosi, fosse in origine un prestito dalle lingue osche, sottolineando così come l'elevata litigiosità delle popolazioni sabelliche, la loro turbolenza, fosse un elemento ben noto già in antichità. Tutto il mito del Ver Sacrum, come ci viene riportato da Festo, che entra molto nel dettaglio, racconta poi come i 7000 giovani che si distaccano dai sabini, partano sotto la guida di un condottiero a nome Comio Castronio dalle sponde del lago di Cutilia, quindi in quello che oggi è il Reatino, in una zona che gli stessi autori classici quindi non erano concordi se attribuire in origine alla sfera di influenza dei sabini o a quella degli Umbri. A complicare poi ulteriormente il quadro c'è il fatto che il termine Sabelli venga usato dai Romani a volte per indicare i Sanniti, altre volte invece proprio i Sabini, tant'è che vi sono diversi storici contemporanei secondo i quali in certi momenti storici i Romani non distinguono in maniera netta tra l'elemento Sabino e quello Sannita. Tutta la questione è evidentemente immensamente complessa, e per cercare di renderla il più possibile comprensibile possiamo provare ad analizzare tutto il fenomeno dell'etnogenesi delle popolazioni osco-umbre secondo due diverse angolazioni che poi andranno fuse tra loro. Ad esempio noi abbiamo visto come diverse popolazioni osco-umbre siano nate dalla sovrapposizione dell'elemento osco-umbro, appunto, a popoli preesistenti. Abbiamo visto ad esempio come i Piceni siano nati dalla fusione degli osco-umbri con i Liburni, abbiamo visto come gli Umbri siano nati dalla sovrapposizione dell'elemento osco-umbro a una realtà precedente, forse pre-indoeuropea, e ora abbiamo visto come in generale i diversi popoli osci siano nati dalla sovrapposizione dell'elemento osco-umbro a popoli latino-falisci. È evidente quindi che le diverse mescolanze hanno caratterizzato in maniera diversa i popoli che ne erano il prodotto. Va considerato poi un altro punto di vista però, che è quello politico, delle varie federazioni che si formavano con la fusione, o meglio appunto la federazione, delle diverse popolazioni sabelliche, così come al contrario bisogna considerare decisioni alle quali a volte queste popolazioni andavano incontro, e questo evidentemente muta a seconda del contesto storico. Noi ad esempio sappiamo che alle quattro nazioni canoniche della Lega Sannitica, quindi i Pentri, i Carecini, i Caudini e gli Irpini, ad un certo punto si aggiungono anche i Frentani, e per Strabone a un certo punto noi vediamo che addirittura i Campani, i Lucani e i Bruzzi sono da considerarsi Sanniti. Completamente all'opposto, in Tolomeo, noi vediamo come i Carecini vengano presentati come una realtà diversa da quella dei Sanniti, così come per altri autori classici ad esempio gli Irpini sono un popolo che viene presentato separatamente rispetto al resto dell'enclave Sannitica, poiché sono una realtà che ha un proprio mito fondativo, un proprio animale totemico, Irpus, il Lupo, che quindi è diverso dal Toro, e che quindi sembrano più legati ai Lucani che ai Sanniti propriamente detti. Quindi di fatto continuiamo a essere di fronte a una realtà che è immensamente fluida, che è caratterizzata da una parte dalle diverse mescolanze tra l'elemento osco-umbro e altre popolazioni precedenti dell'Italia, e dall'altra dal frazionamento o dalla federazione delle diverse popolazioni sabelliche o osco-umbre che vanno a costituire delle realtà politiche che sono però in quanto tali mutevoli. Se il mito riportato da Strabone riporta dell'arrivo del nucleo originario dei Sanniti in un territorio indicato in maniera vaga come Terre degli Opici, che potrebbero corrispondere alla Campania come in realtà a tutta l'Italia meridionale, noi possiamo provare a circoscrivere in maniera ben più dettagliata i confini del Sannio, che erano delimitati probabilmente a nord dal fiume Sangro, a sud dal corso dell'Ofanto, a est dal tavolire delle Puglie e a ovest dalla pianura campana. Quindi di fatto il Sannio era costituito dalla moderna regione del Molise e parte dell'Abruzzo, precisamente l'Abruzzo meridionale, parte della Campania, la Campania orientale, e parte dell'Alta Puglia. L'ingresso a pieno titolo dei Sanniti nella storia avviene nel 354 a.C., quando questi siglano un trattato con i Romani. Tito Livio e Diodoro Siculo non entrano nel dettaglio delle clausole di questo trattato, ma evidentemente deve essere stato un documento siglato tra i quali, con lo scopo principale di evitare il degenerare dei rapporti tra due realtà che proprio in quel momento contemporaneamente stavano penetrando nella Valle del Liri partendo da due fronti contrapposti. Va detto che anche la forte ostilità che entrambe le parti dovevano nutrire nei confronti di Siracusa deve aver giocato un ruolo importante nella stipula del trattato, soprattutto se pensiamo agli attacchi martellanti e costanti che in questo periodo Roma sta subendo da parte dei mercenari gallici al soldo di Siracusa, che partivano per le loro scorrerie da dei centri posti in Campania e in Apulia. Di conseguenza la ricerca da parte di Roma di un alleato forte in Italia centro-meridionale è qualcosa di abbastanza naturale e conseguente. Purtroppo con il progressivo sbiadire della potenza di Siracusa i rapporti tra Sanniti e Romani cominciano velocemente a deteriorarsi, fino a portare allo scoppio di tutta una serie di conflitti che infurieranno per tutta la seconda metà del IV secolo a.C. e grossomodo per la prima decade del III, e alla cui conclusione evidentemente il vincitore sarebbe diventato il principale polo accentratore dell'Italia centro-meridionale. Va detto però che non possiamo dire con certezza se alla base delle Guerre Sannitiche già al loro inizio vi fosse un pensiero di strategia politica di ampio respiro da parte di entrambi i contendenti. Certo alcuni storiografi romani sembrano volerlo suggerire, però dobbiamo ricordare sempre che si tratta di persone che scrivono molto dopo rispetto ai fatti che vanno a trattare, e soprattutto si tratta di persone che hanno una visione fortemente viziata dei Sanniti che è condizionata dagli eventi molto successivi della guerra sociale. Inizialmente di fatto la spinta dei Sanniti sembra molto semplice e lineare, ovvero quella di uscire dal Sannio, una realtà petrosa e avara di risorse, e puntare alla fertile pianura campana e alle sue ricche città costiere, e contemporaneamente la spinta dei Romani sembra altrettanto semplice e lineare, ovvero quella di voler esercitare qualche forma di controllo sul mondo della Magna Grecia. Però con il progressivo sviluppo dei conflitti vedremo come le azioni militari di entrambe le parti comincino ad essere sempre più dirette a contenere se non addirittura ad annientare l'avversario. Vedremo i Romani fondare in maniera strategica delle colonie che andranno in qualche modo a contenere e a soffocare la realtà sannita, anche tramite poi la stipula di alleanze con popoli che confinavano direttamente con i Sanniti. Dal canto loro i Sanniti cominceranno a stipulare dei trattati con popoli sabellici sempre più al di fuori della loro sfera di influenza tradizionale, spingendosi sempre più a nord, arrivando addirittura alla fine a farsi promotori di una lega con Etruschi e Galli Senoni. La fine delle guerre sannitiche, che come sappiamo vedrà una vittoria schiacciante dei Romani e il loro predominio quindi sull'Italia centro-meridionale, porterà però purtroppo con sé anche un seme velenoso, un'incompatibilità totale, un'ostilità cocente tra i due contendenti. Vedremo infatti che i Sanniti alterneranno momenti di sudditanza non vissuta particolarmente bene e di aperta ribellione nei confronti dei Romani. I Sanniti infatti accorreranno tutti come un solo uomo sotto allo stendardo di Pirro, e con l'unica eccezione dei Pentri i Sanniti appoggeranno anche Annibale quando calerà in Italia. Quando agli inizi del I secolo a.C. poi esploderà la guerra sociale e i vari soci italici si rivolteranno contro i Romani per ottenere la cittadinanza, i Sanniti insieme ai Piceni e ai Marsi diverranno i leader naturali di questa rivolta, e sotto certi punti di vista sembra che la loro spinta più che essere quella di ottenere un riconoscimento totale da parte del mondo romano fosse quella di creare un modello ad esso antitetico e contrapposto. Quando poi infine i Sanniti si schiereranno con Mario durante la guerra civile tra Mario e Silla, Silla dal canto suo sfrutterà questo elemento per presentarsi come difensore della Romanità, portando avanti un atteggiamento tremendo nei confronti dei prigionieri Sabelli catturati, che verranno sistematicamente massacrati dalle truppe di Silla. Sanniti e Romani sembrano dunque divisi da un'ostilità reciproca imbalicabile e indissolubile, e questo in particolare sembrerebbe trasparire dalle tremende purghe portate avanti da Silla contro i Sabelli dopo la sua vittoria su Gaio Mario. Eppure sotto un altro punto di vista è interessante notare come dall'interazione di queste due culture entrambe si siano evolute e siano cresciute durante i secoli. Ad esempio per quanto riguarda i Sanniti è innegabile il fatto che alla vigilia del loro primo contatto con il mondo romano la loro cultura fosse socialmente molto acerba, con il Pagus, un distretto territoriale, che era il primo tassello della loro struttura protostatale. Dalla federazione di più pagi era costituito il Touto, che era l'effettivo protostato dei Sanniti. Il Touto era gestito e governato dal Medix Toutix, un magistrato eletto che doveva il suo nome alla parola osca medos, che significa legge, diritto. I vari Touto così costituiti erano poi federati l'uno all'altro andando così a costituire quella che era la Lega Sannitica, una Lega che inizialmente ha l'aspetto di una simmachia, ovvero una realtà prettamente militare, una realtà federale dai legami abbastanza lenti, che si andavano però a reinsaldare ogni volta che c'era un obiettivo comune da perseguire. Consideriamo che secondo alcuni storici addirittura la magistratura di Medix Toutix non era costante, ma veniva eletta solo in occasione di particolari momenti, situazioni di crisi alle quali bisognava far fronte, oppure appunto obiettivi condivisi delle diverse nazioni della Lega che andavano perseguiti. Ora noi non sapremo mai quanto la contrapposizione con i Romani abbia contribuito all'evoluzione e alla stratificazione della cultura della società Sannitica, però è innegabile che la necessità di creare un corpo solido da contrapporre a un nemico potente abbia potuto giocare un ruolo preponderante. Noi sappiamo ad esempio che il Santuario di Pietra Abbondante nel territorio dei Pentri, che era il centro cultuale della Lega Sannitica, che quindi da questo punto di vista andrebbe considerata più che una simmachia, un'ambizionia, vede il suo fiorire principalmente dalla seconda metà del IV secolo a.C., quindi esattamente in contemporanea con lo scoppio delle Guerre Sannitiche. Altresì gli elementi monumentali principali di detto Santuario vengono edificati tra la fine del II e i primi del I secolo a.C., quindi in quel clima che era propedeutico, che sarebbe stato propedeutico allo scoppio della Guerra Sociale. Noi di fatto quando guardiamo i Sanniti dobbiamo considerare che un popolo che inizialmente era composto sostanzialmente da montanari che scendevano dalle alture in pianura alla ricerca di nuovi pascoli e di terre fertili, un popolo che inizialmente si espandeva, espandeva i suoi orizzonti culturali ma non politici per mezzo della Primavera Sacra, che andava a creare nuove comunità che erano indipendenti però dalla casa madre, a un certo punto del suo percorso di conflitto con Roma comincia evidentemente a coltivare delle mire egemoniche, comincia ad espandere la propria sfera di influenza, a coltivare alleanze al di fuori del proprio ambito solito, e a un certo punto arriva per un breve lasso di tempo a gestire, a coordinare una grande lega che contrappone a Roma non solo i Sanniti e altre popolazioni sabelliche, ma anche gli Etruschi e addirittura i Galli Senoni. Noi non sapremo mai quanto la cultura sannitica, la società sannitica, fosse formata al momento del suo primo contatto con Roma, e se sarebbe sciocco abbracciare in maniera prona l'idea che la lega sannitica si sia costituita, sia nata proprio per contrapporsi romani dal nulla, non possiamo fare a meno di notare che alcuni suoi elementi, alcune sue prerogative sicuramente si sono affinate proprio in funzione antiromana, in funzione di fronteggiare un nemico potente. E questo è ancora più evidente durante il periodo della guerra sociale, quando noi vediamo i soci italici che si sollevano nel I secolo a.C. contro Roma richiedendo a gran voce il riconoscimento della cittadinanza. Noi vediamo, leggendo Diodoro Siculo, che gli Insorti costituiscono la città di Corfinium come loro capitale, e la battezzano con un nuovo nome, Italia, un nome che in qualche modo la contrappone, secondo Strabone, a Roma. In questa nuova capitale degli Insorti viene istituito un Senato federale che ha rappresentanti di tutti i popoli italici che hanno preso parte alla sedizione, e in più viene deciso che la nuova lega così costituita verrà gestita da due consoli che verranno eletti annualmente, e non a caso i primi due consoli eletti sono uno del popolo dei Marsi e un altro del popolo dei Sanniti, appunto. Non è difficile per noi immaginare quindi che se una certa porzione degli italici insorti effettivamente non volesse altro che il riconoscimento dei privilegi della cittadinanza romana, un'altra porzione, probabilmente con i Sanniti in testa, sognasse una realtà federale sabellica antitetica a Roma, per la quale però d'altra parte vediamo che, per lo meno dal punto di vista delle istituzioni, come ad esempio i due consoli, che sono sicuramente due mediches, però comunque di fatto strutturalmente nella collegialità ricordano i consoli romani, appunto per quello che riguarda la struttura, l'ordinamento interno, questa nuova realtà si ispira al mondo romano. Possiamo considerare però che anche i Romani d'accanto loro in qualche modo beneficiano del conflitto protratto con i Sanniti. Se da una parte c'è tutta una vulgata che vuole ai Romani acquisire le loro armi caratteristiche, lo Scutum e il Pirum dai Sanniti, noi in realtà sappiamo che sebbene vi siano diverse fonti che ne trattano, come ad esempio l'Ineditum Vaticanum, si tratta di una vulgata appunto che non ha riscontro archeologico. I Romani conoscevano lo Scutum molto prima di confrontarsi con i Sanniti, e i primi esempi di Pilum sono addirittura etruschi, quindi sicuramente i Romani non prendono le loro armi caratteristiche dai Sanniti, però probabilmente imparano a combattere in maniera più fluida ispirano l'ordinamento manipolare proprio ai teatri di operazione che li vedono combattere contro gli agili montanari Sanniti sulle alture del Molise e dell'Abruzzo. Dobbiamo però ancor di più considerare che, sebbene non lo sapremo mai, le operazioni strategiche portate avanti dai Romani durante soprattutto la Terza e la Seconda Guerra Sannitica, per contenere gli avversari, li porteranno sempre di più verso il Sud Italia. Se da una parte probabilmente possiamo immaginare che già vi fosse un seme presso i Romani che li spingeva a sognare un'egemonia su tutta l'Italia centro-meridionale, sicuramente all'inizio il punto di partenza era semplicemente quello di stringere e di opprimere i temuti avversari. Quindi sicuramente i Romani non inventano i Sanniti, sicuramente i Sanniti non inventano i Romani, però si tratta di due realtà che, nel loro odio e ostilità reciproca, in qualche modo si sono reciprocamente aperte la strada. Spero che questo video vi sia piaciuto, mettete in questo caso un like e iscrivetevi al canale. Grazie!